Gentili telespettatori, buona giornata. Questa volta il PD fa una dichiarazione ufficiale. Su che cosa? Sulla Lega con Matteo Salvini che in Consiglio dei Ministri si è astenuta dal voto sul decreto riaperture. Cos'è successo? Credo che ormai lo sapete. La Lega prima, due giorni fa, aveva già preso un accordo con Draghi. Non la Lega, ma tutti i ministri dove ci sono dentro i ministri anche della Lega, per un testo, una bozza condivisa sulle riaperture dove rimaneva l'orario, quello dalle 22 alle 5 del mattino, che non si può uscire di casa. Anche ristoranti, bar, tutti devono chiudere perché si deve stare a casa. Era già una presa di posizione di tutto il governo unanime. Siamo d'accordo, regioni, sindaci, ministri, partiti, va bene così. Però Matteo Salvini, proprio ieri, prima del Consiglio dei Ministri, aveva scritto più volte a Draghi dicendoci vuole coraggio, dobbiamo riaprire, dobbiamo chiudere almeno alle 23 in stile Spagna, in stile Madrid, prendiamo esempio da loro. E Draghi dice non riesco a capire perché Salvini dice questo visto che due giorni fa i suoi ministri erano d'accordo nel fare così. E adesso perché Salvini adesso mi dice una cosa opposta? E così Draghi si era abbastanza, diciamo, spazientito, tra virgolette. Dice no, lo lasciamo così com'è, dice Draghi. Rimane quello che abbiamo stabilito nel Consiglio dei Ministri, precedente nella bozza. Adesso dobbiamo solo formalizzare il tutto. Allora Matteo Salvini manda un ultimo messaggio durante il Consiglio dei Ministri, un sms che ho scritto se non si porta l'orario dalle 22 alle 23, noi ci asteniamo dalla votazione. Non posso votare tutto così perché siamo nel governo. E poi alla fine Draghi non ha ascoltato Salvini e hanno confermato e firmato il decreto così come era stato stabilito due giorni fa. Arriva una nota ufficiale del Partito Democratico e dice così Salvini mette in difficoltà Draghi e l'intero governo. Stavolta non sono post, tweet sui social, questa volta è un atto formale ma quindi una presa di posizione ufficiale del Partito Democratico con Enrico Letta. L'astensione della Lega in CDM sulle riaperture. Parlano di un giochino per stare dentro, di stare dentro per criticare fuori. Stasera ha fatto un salto di qualità, scrivono quelli del PD. Ed al Nazareno trapela tutta l'irritazione dei vertici del PD che parlano di un atteggiamento irresponsabile di Matteo Salvini che è frutto delle sue difficoltà anche all'interno del centro-destra, ovvero la competizione con Giorgia Meloni. Secondo il PD Matteo Salvini farebbe questo per competere con Meloni. Perché? Giorgia Meloni ieri aveva detto che quella cosa delle 22-23 era una cosa un po' misera, insomma, che il coprifuoco andava cancellato ma spostare la chiusura dalle 22 alle 23 era robetta, roba da poco. Probabilmente Salvini ci ha pensato e dice beh qua io non riesco neanche ad avere quella robetta da poco, cioè non riesco neanche a spostare dalle 22 alle 23 perché nel governo si sono impuntati, hanno detto che almeno fino al 15 di maggio, almeno fino a giugno addirittura, fino a giugno parlavano, rimane questa regola. Dalle 22 alle 5 del mattino nessuno deve stare in giro per le strade se non per dei motivi seri. E così è stato. Matteo Salvini non è riuscito ad avere neanche quell'ora in più, perché non è per passeggiare ma per le attività commerciali. Sentendo anche le critiche di Giorgia Meloni che dice ma io non sto criticando la Lega ma sono all'opposizione e devo fare il lavoro dell'opposizione che è quello di vedere e di criticare quello che fa il governo se eventualmente non va bene. E così per il Partito Democratico questo che sta facendo Salvini lo sta facendo per competere con Giorgia Meloni, quindi sta facendo un'opposizione dall'interno del governo per far vedere anche al suo elettorato quello più che lui comunque è lì ma è come se fosse all'opposizione, cioè fa un'opposizione interna al governo. Quello insomma che faceva Renzi, vabbè Renzi lo faceva per altri motivi, quello che faceva Renzi durante il governo Conte II. E intanto una prova, dicono dal Partito Democratico, una prova di responsabilità della Lega in CDM, Consiglio dei Ministri. Questa linea ondivaga mette in difficoltà Draghi e l'intero governo. Mette agli atti il vice segretario DEM, Peppe Provenzano. Dice Salvini ha problemi nei sondaggi e di competizione per la leadership con la Meloni. Sta giocando una partita sua, ma lo fa sulla pelle di italiani. Mentre altre fonti dicono linea ondivaga del leader del Carroccio su un decreto che la Lega aveva sottoscritto nemmeno una settimana fa. L'atteggiamento, dicono dal PD ondivago di Salvini, che prima rivendica il decreto come frutto delle pressioni della Lega e poi ne prende le distanze, è irresponsabile. Cosa dice il PD? Come? Prima dice abbiamo vinto, riapriamo il 26 e poi si astiene e non lo vota perché non è stata modificata la parte relativa alle 22-23, come vi dicevo prima. Il PD rivendica la sintonia con il Premier Draghi che oggi a quanto si apprende si sarebbe alquanto irritato per l'insistenza leghista sul rivedere l'accordo stretto in cabina di regia e posticipare quell'orario dalle 22 alle 23. Aperture sì, ma con gradualità, dicono dal PD, perché l'importante è ripartire in sicurezza in modo irreversibile. E però di irreversibile ci sono poi anche le chiusure delle aziende. Ricordiamoci che quando un ristorante riconsegna le chiavi al proprietario dei muri, i mobili non so che fine fanno, finisce l'attività, cosa fa? Poi riapre? Il primo di giugno riapre il ristorante? Come paga di nuovo le attrezzature e i tre mesi anticipati d'affitto? Dopo che si è chiusa un'attività, l'attività comporta un investimento in denaro enorme. Quando si è chiusa poi non si riapre più. Questo è, cari del PD, il modo irreversibile è poi quello delle attività. Quando hanno chiuso è finita. E poi aggiungono che la piattaforma che abbiamo condiviso e che sosteniamo è un punto di equilibrio giusto tra l'esigenza di ripartenza e la tutela della salute. Fanno sapere della delegazione di governo, DEM. Ravvisiamo nell'atteggiamento della Lega alla conseguenza di una contraddizione che è quella di un continuo susseguirsi di ultimatum che portano a questo tipo di incidenti di percorso. E poi ci sono altre dichiarazioni che vi racconterò in un altro video. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.